Partito? Di testa, partito. Buonasera, sono Dennis Nazzari e voglio presentarvi una vita spezzata. Un progetto nato con loro e spero vi piaccia. Lavorare con Dennis? Stai senza persiglieri! Enjoy! Mi a tutti i miei presenti, allora da te inequality. Ma non mi a fare l'induzione. Di testa, partito. Di testa, partito. Di testa, partito. Seguire i miei presenti, partito. Questa! Spanio, guardi, che si! Grazie a tutti. 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 Domani, se vuoi, te la faccio rinascere male. E domani conosciamo la ragazzina. Buonasera. Grazie a tutti. Poi, non ci sei vedere. Fidati. Ti ho detto che è tutto strumento. E tu la sai che voglio arrestare il tuo marito? E tu sai che io ti aiuterò? È la stessa cosa che voglio anch'io. Devi solo darmi tempo. E io ho già la volta che ho salvato la ragazza. E non ti sapevo più. E a me non mi piace se non ci sei portato da una. Ho detto che ho detto. Ho detto una settimana. Massimo una settimana. Chi è questa nuova ragazzetta? Una nuova regola. Fa parte del piano. Buonasera. 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 Finalmente quello che volevi. Non ti fidi? Come hai fatto a trovare questi documenti? Era necessario. Poi ce n'è abbastanza per mandare in galera lui e tutti i soldi. Ci sarà da divertirci. Bene. Mi faccio sentire io eh. Mi faccio sentire io eh. Mi faccio sentire io eh. e se invece rimanessi... ti sei divertita? E se invece rimanessi... Ti sei divertita? Grazie a tutti. Grazie a tutti.